Da mezzanotte i vigili del fuoco di Teramo sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di bosco e sterpagli nel cuore di Castellalto. L'incendio si ipotizza doloso, ha divorato un'area di circa 30 ettari tra le frazioni di Capo Grande e l'abitato di Castellalto. Paura nella prima fase per la vicinanza delle fiamme alle case. Nell'intervento sono stati impegnati tre squadre dei vigili del fuoco di Teramo, Nereto e L'Aquila, con tre autopompe e tre fuoristrada con moduli antincendio e con l'ausilio di tre autobotti inviate sul posto dalla sede centrale di Teramo. All'operazione intervento sta collaborando anche una squadra di volontari AIB dell'Associazione Gran Sasso di Mociano Sant'Angelo. Sul posto è impegnato anche un DOS, direttore dell'operazione di spegnimento del comune di Teramo, a cui è affidato il coordinamento dei Canadair e dei Vigili del Fuoco, che sono giunti alle prime luci del giorno nello scenario operativo, con numerosi lanci nelle aree incendiate meno accessibili per le squadre a terra. Nella parte bassa di Castellalto, nella frazione di Campo Grande, c'è stato un inizio di questo incendio. Siamo intervenuti subito con una squadra in autobotte, poi in supporto un'altra autobotte e una squadra da parte del distaccamento di Nereto. Purtroppo l'evoluzione con il forte vento che era presente questa notte ha richiesto anche l'intervento delle squadre al comando dell'Aquila. Poi questa mattina abbiamo attivato i mezzi aerei, nel momento stiamo operando con due Canadair e con l'elicottero Orso Bruno della regione. Fin dalle prime ore di questa mattina la situazione era ancora abbastanza critica, tant'è che abbiamo dovuto evacuare anche alcune abitazioni nell'abitato di Castellalto, grazie anche alla preziosa collaborazione dei carabinieri di Castelnuovo, di Pineto, che sono intervenuti questa notte, sono stati con noi, hanno collaborato con noi per far sì che le abitazioni che erano in pericolo fossero abbandonate, fossero allontanate le persone che vi erano all'interno. Possiamo dire che al momento è tutto sotto controllo? Nella parte dell'abitato sì, però come potete vedere nella parte vegetativa, nella parte in basso dove ci sono i calanchi, ecco ancora stiamo operando e torno a ripetere, un Canadair in questo momento è andato a effettuare il rifornimento all'aeroporto di Pescara, un altro il Cano 11 stiamo operando con questo velivolo e sta tornando nuovamente Orso Bruno, l'elicottero della regione Abruzzo. È un vasto incendio quello che ha interessato il comune di Castellalto, i residenti si sono preoccupati visto e considerato che le fiamme hanno lambito le abitazioni? Eh sì, c'era molto fumo e anche molte fiamme, purtroppo la paura con gli abitanti c'era che sono scesi tutti in strada, erano tutti in piazze, denso pumo. Con ogni probabilità si parla di un incendio doloso? È tutto da verificare, però è serpeggio questa buona idea e si ripete abbastanza spesso negli anni e quest'anno sembrava che l'avessimo scampata, mentre invece meno ce l'aspettavano. Il momento proprio col vento hanno approfittato.